Sono Pier Villotti, provincia di Trento e questo è il mio allevamento di cardinalini del Venezuela. Qua una femmina, qua un'altra femmina, questo è un maschetto. Qui c'è la sua compagna in cova e un'altra coppia con una femmina in cova e il suo maschetto. E un'altra coppia maschetto e femmina, poi vi faccio vedere qualche uova, qualche uova. Un'altra coppietta e fin l'ultima coppia. Grazie.